Una sentenza gravissima per la Regione che ribadisce quanto già evidenziato dalla Corte dei Conti nello scorso novembre. Praticamente la Corte Costituzionale ha bocciato la situazione finanziaria del 2013 e i rendi conti. Le evidenze sono, come dicevo prima, gravissime. Si va dalle spese prive di copertura all'utilizzo di somme vincolate. Ha la mancata correttezza dell'accertamento dei residui attivi e passivi. Tant'è che il disavanzo passerebbe da 538 milioni di euro a una cifra tra 62 milioni di euro, stima la Corte, a 174 milioni. Una cosa, a mio modo vedere, è chiaramente del movimento gravissima che tra l'altro si ripercuote pure sugli esercizi finanziari successivi.